Un supplemento istruttorio consistente nella trascrizione con consulenza tecnica del Pubblico Ministero della registrazione del comizio del 22 maggio del 2015 con traduzione in italiano delle parti in dialetto al fine di accertare come stanno realmente i fatti e quanto disposto dal GIP del Tribunale di Gela Veronica Vaccaro in merito al procedimento per difamazione intentato da Savero Di Blasi contro il Presidente della Regione Rosario Crocetta. L'episodio risale proprio al 22 maggio in occasione di un comizio infuocato che si tenne in piazza Umberto I durante la campagna elettorale per le amministrative. Sul palco a comiziare c'era il sindaco sciente Angelo Fasulo e c'era l'attuale governatore Crocetta. Un comizio con tanto di fischi e urla di contestazione che, secondo quanto osserve il GIP, non hanno mai un carattere nitido né possibile appurare da parte di chi provenissero. Si registra un vero e proprio fuori programma che vede poi un botta e risposta tra lo stesso Crocetta e gli ambientalisti di Blasi, Emanuele Amato e Rocco Tandurella, che saluti sulla fontana della Dea Cerere urlano e gesticolano facendo il segno delle manette, tutto in dialetto gelese. Ed è proprio per questo motivo che il GIP ha disposto una perizia per la trascrizione del contenuto delle frasi che sono incomprensibili. La locale procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per difamazione nei confronti di Crocetta, ma, come dicevamo, il GIP ha disposto che le indagini proseguano. Di Blasi, infatti, sostiene che il governatore abbia pronunziato una frase offensiva nei suoi confronti e contro Emanuele Amato, in cui li qualifica come mafiosi che fanno la doppia vita, di sere mafiosi e di giorno gli ambientalisti. Una frase che Di Blasi ritiene denigratoria. Considerato che il giudice non ha potuto comprendere con esattezza e con certezza cosa Crocetta abbia detto, sia per la cattiva qualità dell'audio, altamente disturbato, sia perché lo stesso governatore ha usato il dialetto stretto, ha rigettato, come dicevamo, la richiesta di archiviazione, disponendo una perizia.